Una buona giornata. Il messaggio di oggi è immergiti nell'amore divino. Il suo splendore è come la luce del sole. Raggi spolgoranti escono dalle sue mani. Là si cela la sua potenza. Puoi scegliere come affrontare lo stress e le preoccupazioni. Hai il potere di immergerti nella pura energia dell'amore, dedicando del tempo a pregare e leggere la Bibbia in compagnia di altre persone che amano la luce divina. Prediligi rapporti interpersonali e situazioni in cui ti senti a casa, in pace con te stesso e con gli altri. Ricordati l'influsso che gli altri hanno esercitato su di te durante l'infanzia e l'adolescenza. La tua cerchia di amicizie ti incoraggia in modo positivo o ti spinge a comportamenti distruttivi. Anche in età adulta dobbiamo continuare a prestare attenzione alle influenze di chi c'è accanto. Ti immergi nel riflesso della luce e dell'amore che splende nel tuo cuore e nel cuore di chi è intorno a te. Proprio come scegli cibi nutrienti e sani, così sei guidato a scegliere con attenzione l'ambiente in cui lavori e vivi. La luce divina ti aiuterà a intraprendere cambiamenti in queste situazioni. Se pregherai per ricevere aiuto e guida, utilizzare il discernimento per decidere dove e con chi trascorrere il tempo e parte della cura di sé. Osserva come ti senti nelle diverse situazioni. Se in un certo luogo una relazione o uno schema ricorrente esaudisce la tua gioia o la tua energia, è il momento di pregare per un cambiamento necessario. Questo è il messaggio di oggi. Vi auguro una buona giornata.